Come è nata l'idea di istituire un centro di aggregazione giovanile qui a Soperia Mandari? Innanzitutto nasce l'esigenza di sopperire ad un problema molto evidente nelle zone interne, c'è la carenza di strutture deputate ad alimentare la cultura anche della legalità ma la cultura in genere nelle fasce giovanili. Per fasce giovanili intendiamo i bambini che vanno dai 6 anni fino ai ragazzi dei 18 anni. In quest'ottica si è pensato di aderire ad un finanziamento a valere sul programma operativo nazionale Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 che ci ha consentito di ottenere dei fondi proprio per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile a Soperia Vannelli che sarà destinato a servire l'intera area comprensoriale. Per quanto riguarda le politiche di gestione di questo centro che ha ovviamente natura pubblica si è stipulato un accordo di rete con l'istituzione scolastica, nello specifico l'istituto comprensivo Rodari di Soveria Vannelli, con la parrocchia San Giovanni Battista di Soveria Vannelli e con esponenti dell'associazionismo locale che hanno una trentennale esperienza nel campo dell'animazione teatrale sul territorio. In questa ottica si è stipulato questo accordo di rete che è assolutamente un unicum per il nostro comprensorio che si adotta a livello sperimentale ma che speriamo si possa verificare su una lunghezza di medio termine quanto meno e siamo in attesa quindi di saggiare gli effetti del centro sulla popolazione giovanile. Ovviamente è una sfida molto complicata da portare avanti ma contiamo di riuscire a venirne a capo con la collaborazione effettiva dell'istituzione scolastica che è posta al centro dell'iniziativa. Quindi per chiudere sul punto direi che l'amministrazione comunale sta attuando quello che era il programma amministrativo che poneva al centro dell'azione amministrativa l'individuo, la persona, la famiglia ed il loro benessere. Quindi quale può essere l'importanza di questo centro per una realtà? Come dicevo nelle aree interne, quantomeno nella realtà che conosco meglio, quindi quella del Reventino non esistono strutture analoghe quindi non ci sono dei servizi diretti a coprire le esigenze di disagio giovanile e di emarginazione sociale e culturale sulla fascia giovanile in questi territori. Quindi si rendeva obbligatoria la necessità di intervenire nel settore delle politiche giovanili con una struttura che potesse sopperire a queste necessità. Ovviamente non è solo un centro di attività e anche in forza di questo accordo di rete che accennavo prima il coordinamento tra la scuola, l'istituzione scolastica, la società civile, il comune, il mondo dell'associazionismo di fatto costituisce anche un punto di raccordo, mi ripeto, di coordinamento che serve anche ad essere un punto di osservazione sulla realtà giovanile e sulla realtà in genere in modo da poter intervenire nei casi più critici e comunque per alimentare diffusamente quello che è il bisogno di creare cultura e nello specifico soprattutto di evitare che i giovani possano avvicinarsi a culture devianti e comunque a pratiche poco sane. Diciamo che cerchiamo di dare a questo luogo un'identità forte che possa essere riconosciuta dalla collettività come un punto di riferimento e che possa sostituirsi a punti poco identificati e che sono più esposti come le strade e le piazze. Quindi cerchiamo di togliere i ragazzi dalle strade per dargli una prospettiva delle opportunità di informazione, di occupazione del tempo libero e di crescita ulteriori rispetto a quelle che sono in genere laconiche nelle zone interne più disagiate. Entrando nel dettaglio, quali sono le varie iniziative che portate avanti in questo centro? Le attività che vengono svolte nel centro saranno su base mensile e annuale. Si farà un calendario con tutti i firmatari dell'accordo di rete. In sostanza accadrà questo. La scuola, integrando il piano dell'offerta formativa, svolgerà in questa sede attività curriculari ed extracurriculari. Nello specifico si è realizzato un calendario di attività iniziali in collaborazione con le associazioni, gli esponenti del terzo settore. Quindi le prime iniziative che partiranno sono esattamente queste. Dei corsi di edizione per ragazzi e giovani, dei laboratori teatrali, un corso per l'educazione al linguaggio cinematografico e televisivo e un laboratorio musicale che vedrà la realizzazione e la costituzione della prima orchestra giovanile della città di Soveria Mannelli. Ovviamente questo calendario sarà destinato ad arricchirsi nel corso di questa esperienza della vita del centro di aggregazione giovanile e sarà demandato alla sinergia che ci sarà tra le istituzioni scolastiche e le associazioni del terzo settore.